Ogni mattina nella city un imbruttito si sveglia e sa che dovrà correre per fatturare. Operativo anche nel sonno, perché chi dorme non piglia cappa. Vamos! Mio, Fadeli Timmy, voglio tutti in office entro mezz'ora. Ecco, cazzo suoni che rosso! Cazzo fredi che verde! Firmiamo il contrattino? Ci vuole avere un po' d'acqua? Assolutamente sì. Naturale, prezzante. Ma per la plastica? Io non lavoro con chi distrugge il pianeta. Brusini, per favore! Assassino! Uè, dinosauro! È arrivato il meteorite, eh? Signor boss, bisogno di prendere le ferie. Che bello! Anche perché hai accumulato 52 settimane di ferie arretrate. Guarda qui, apri. Questo è il mio amico, chiedimelo ed è tuo. Per 350k. Ma tu sei proprio un coglione! Già, Già, tu vieni con me. Io sto firmando contratto a tempo indeterminato. Ci aspetta una nuova sfida. Io per lei mi getterei nel fuoco. Mollo tutto e abbruncino in chito! Buongiorno, sono il signor Imbruttito. Io sono Bastiano. Posso chiamarti Giubastiano? No. Lei non sembra un po' strano, io non c'è nessuno. Ragazzi, devo ammetterlo. Ci hanno truffato. Garroneddu deve diventare l'emblema della SGS. Solo gente selezionata. Ottiga! Cazzo sono i neri per caso. Ma no! Abbiamo un allevamento. E di cosa? Di business. Ma che giunta c'è a sto parte? Dimmi se sei un uomo Per un pistolero Se già dove mirare Amore di mirare Dai, Imbruttito! Positività! Ricorda, nasce tutto qua. Un po' qua. E anche poco. Più qua. Ma dimmi se sei un uomo Positività! 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 Grazie a tutti.